Ciao a tutti dal quartier generale di G2K Italy, anche oggi apriamo qualche pacchetto, ne apriamo pochi ma parliamo anche di altro, nel frattempo mi bevo un gin mule di coke, Kenor Cax che mi ha dato Doncarella, tutto il kit, l'abbiamo visto settimana scorsa, tutti molto buoni drink, in particolare il paloma, però sono facili da preparare, diciamo, basta un po' di ghiaccio, versare nel bicchiere, abbiamo un drink pronto come al bar. Certo, manca la parte affettiva di quello che poi è un bar, la parte della chiacchiera, del vedere la gente, però è una buona alternativa magari nel periodo di lockdown. Salute! Dicevamo, il primo gin che vi faccio vedere arriva dall'Australia, contiene calendula, promette di dare benefici in termini di collagene, vitamina C, una bottiglia molto molto bella, ha fatto un viaggio lunghissimo, ed è Impression Gin. Lo vedremo prossimamente, nel frattempo date un occhio alla pagina Instagram, non una ma due perché sapete che qui abbiamo tanta sete. Dopodiché volevo ringraziare per l'orità de Malfi, per questo gentile omaggio, la Malfi Experience. Ne parleremo a breve insieme, io ho già aperto la scatola, devo dire che è qualcosa di pazzesco, per quanto mi riguarda, sono stato molto contento di essere stato selezionato, ed è arrivata anche un'altra box. Di questo ginio ho già parlato, vi ho già detto la mia, non vi dico di cosa si tratta, vediamo se ve ne potrò parlare poi in futuro, però ricordatevi che io vi ho già detto la mia, quindi diciamo anche oggi ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere insieme, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!